Claude Albertoni in grande spolvero, abbiamo Sparta 2012 in the cage, tra pochi giorni, raccontaci Bene, questo è un evento straordinario, un evento unico perché è vero che è stata fatta a Gabbia Ring ma non è vero che sono stati fatti in match, in modo equo Invece a Sparta, dove dicevi? Che sarà appunto a Parma, una bellissima discoteca sulle rive del Taro un bellissimo posto, verrà montato il ring e verrà montata la Gabbia Saranno 8 match tra K1 e Tai, combatterà Rodriguez tra l'altro Ci saranno tutti i match pro e avranno inizio alle 19 Subito dopo si partirà con la Gabbia, ci sarà un titolo europeo, un atleta di Sakara per quella che è la sua federazione, contro un atleta di Mazzini che organizza insieme a me Cioè ci sarà Sakara Ci sarà Sakara, Sakara e ci saranno tanti altri atleti famosi Tra l'altro ci sarà un match femminile di Muay Thai con i gomiti Tra la Bernile che è una ragazza fortissima, che ha anche la fortuna quest'anno di avere nazionale e la Stella Morelli che da tanti anni che combatte è sempre stata una ragazza tosta Quindi volevo ringraziare il locale che ci permette di fare questo evento importante Cioè il Down Under Pub di Noceto Parma Ovviamente ringrazio come sempre tutto il mio staff che è sempre iper iper attivo Ringrazio gli sponsor loro ma ringrazio soprattutto anche Emilio Appiana Perché Emilio nonostante sia un uomo invisibile manda sempre i suoi, l'apo in primis A fare queste interviste che nel nostro mondo servono molto Perché ormai il cartaccio è superfluo e quindi tutto ciò che non viene letto ma viene comunicato tramite video eccetera Vedo che è un maggior risconto, quindi grazie a tutti gli sponsor e grazie anche a Emilio E soprattutto a l'apo che è sempre presente con le sue belle interviste e non solo Allora grazie ad Alberton, allora ci troviamo tutti quanti veramente interessante Perché insomma guardate c'è Saqqara, c'è l'incontri femminili con la Morelli e la Bernile C'è Rodriguez di Maitai che abbiamo visto Maitai full rules Allora ripetiamo con un rumeno forte Allora ripetiamo la data Domenica 29 luglio a partire dalle ore 15 con lo stage di Saqqara Poi ricordo che finirà a mezzanotte, ci sarà la serata ovviamente Quindi tavoli, privé, ragazze Ovviamente noi avremo il nostro bel tavolo con l'apo che sarà super ospite eccetera eccetera E super ospiti Insomma ragazzi, stage di Alessio Legionario Saqara Incontri importanti al Down Under, riguardiamolo Down Under Pub a Noceto Parma Prendete la macchina se non siete di zona limitrofe e venite a vedere questa domenica notevole Grazie Claude Albertone Grazie a voi e grazie a te soprattutto